Oggi parliamo dell'uso del Pickup, una soluzione veloce, semplice, accurata per recensire risorse su Tintag usando le pagine internet che state navigando. Un istante di attenzione e ne parleremo subito. Un primo esempio di utilizzo del Pickup. Sto leggendo il giornale, sono sul sito di Repubblica e trovo interessante questo articolo. La domani la terra è in rosso. Bene, mi interessa. Tasto di destra, carica su Tintag e l'articolo è già catalogato. Devo inserire assolutamente le tag Ambiente, Ecologia, Crisi, Energia. Si tradì un articolo di giornale e quindi scelgo articolo. E do OK. Di lì a poco, ecco la mia risorsa già disponibile su Tintag. Il titolo, l'indirizzo per raggiungere questo articolo, le tag che ho inserito. E nel frattempo, come vedete, sono già stato anche logato. Torno all'articolo perché mi interessa questa immagine. Tasto di destra sull'immagine. In questo caso, oltre ad avere la possibilità di caricare su Tintag, ho anche carica immagine su Tintag. Scelgo carica immagine su Tintag. Questa volta devo mettere le informazioni perché l'immagine non aveva le informazioni. Salviamo la terra. Le tag, Ambiente, Ecologia, Crisi, Risorse. È una foto. Ed ok. Anche in questo caso, come potrete vedere, l'immagine è presto disponibile su Tintag.